Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e oggi siamo qui con un video di Halloween In questo video di Halloween andremo ad analizzare i dettagli del Brawl Talk di ieri Ma io sto registrando il video nel giorno che è uscito il Brawl Talk ma per voi sarà già ieri A me sinceramente è piaciuto ma in questo video come vi stavo dicendo prima Analizzeremo i dettagli del Brawl Talk di ieri e quello dell'anno scorso Ovvero del 20 maggio Bene partiamo già dal fatto che nello scorso Halloween del video di Brawl Talk si sono Aspirati a Martis e a Frank. Martis aveva già parecchi skin mentre Frank solo una Ovvero perciò hanno creato DJ Frank la skin bellissima mia preferita di Frank Io però non so che dire guarda Poi alla fine avevo iniziato con poche 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 skin Poi adesso ce ne sono un botto proprio la Supercell non so se ve ne siete accorti ma Dall'aggiornamento dello Star Park ne sono facendo sempre di meno Rispetto dell'aggiornamento di quando era uscito di quando era uscito a Jackie C'erano 8 nuove skin ragazzi era ad esplodere con le gemme L'anno scorso per il periodo di Halloween avevano fatto questa nuova mappa di Brawl Stars di sopravvivenza In pratica che tu intanto perdi sempre vita e per farti vita devi attaccare i nemici Quest'anno l'hanno fatta pure Poi avevano messo Ems che si otteneva alle 8000 coppe O meglio si ottiene ancora alle 8000 coppe Ma perché quest'anno non fare un personaggio che si tiene tipo alle 10.000 coppe Arrivi con numero di una cifra in più Dai ci sta un nuovo Brawler dai Non un leggendario che non si troverà mai nella vita Le nuove skin ragazzi Le nuove skin quest'anno ritorneranno scontate Scontate meglio raga dai E avevano messo anche la sete di potere Raga tra due giorni per voi sono un anno di sete di potere Ma perché quest'anno non mettere tipo una sete di potere solamente per il periodo di Halloween Tipo boh che devi raccogliere le caramelle, le zucche Devi tipo ti trasformi in un fantasma Io che ne so raga Ma passiamo al Brawl Talk di ieri Hanno dato vita Cioè messo Amber Brawler raga bellissimo, spettacolare Brawler leggendario Raga avete presente quando tenete il pulsante qua per la mira Ecco tipo questo qua bianco che per mirare Quando lo tenete giù Come potete vedere la linea di colpi Va indietro nel senso che poi quando arriva Che non ne puoi più sparare Non ne hai più Devi ricaricarli Se invece sparate toccando il pulsante senza Con la mira La mira è automatica I colpi ve li dà Brawler senza colpi in pratica Secondo me raga lo deboliranno Raga gli ultimi 4 Brawl Talk Brawl 3 ma Stanno diventando Quello di Gelindo Quello di Energetic Quello di Collette Ora questo qua Allora Gelindo Lo hanno Lo hanno depotenzial Ok Energetic Gli hanno tolto una marea di vita Non si chiama nemmeno più Energetic La Stellari Ora fa schifo Collette Prima faceva schifo Adesso Gli hanno aumentato il danno Ragazzi Non sanno più che fare Sì qua della Supercell Sono messi male La Super È un'ondata d'olio E E resta lì per un bel po' Guardate adesso ragazzi Quando invece gli spara sopra Alla sua Super Alla sua stessa Super Guardate cosa succede In pratica Chi ci sta sopra Gli fa danno E lo rallenta Lo rallenta Non lo so Forse queste sono delle Star Power Quella che ti rallenta danno Non lo so Boh Guardiamo attentamente Guardate Fa la Super Gli spara sopra E se ne va subito Quando gli spari se ne va Boh demoniaco Zombie B Finalmente in game Ragazzi Guardate La Super di Bibi È in pratica Un fantasma Un La faccia di uno scheletro Le nuove skin gold Karate Bellissime Ragazzi ci volevano Ci volevano Per i maxati Dai Che sta facendo Dani Si è messo una ma Non è Nuova skin per rosa Teschio Però Per una nuova skin per rosa Proprio di Halloween Dovevano farla Ragazzi Oddio Cosa è una championship Che partite Potrà avere Aspettate un attimo Potrà avere La skin di rosa E più L'emoji Della skin La sto vedendo Non ho parole No non ho parole Ragazzi Se non ho capito male Questa qui è una skin Che verrà scontata Per sopportare I migliori giocatori Di Brustass E se la comprerai Ti daranno Pure l'emoji Di Colt Di Stasmin Ragazzi Del torneo Ragazzi Help me Guardate ragazzi Ora si vedono Guarda Aspetta due secondi Ecco Guardate La schermata Se la fa vedere L'anteprima Qui ci sono l'emoji Poi tu clicchi Nel trofeino Della championship E ti da Tutte l'emoji Questa qua è una pazzia Queste emoji Non finiranno mai Dieci nuovi gadget Oh my god Dai ragazzi Per me mi sta piacendo Milioni di dollari Che sta facendo Si teletrasporta Ragazzi Al posto di trampolini Sta cosa che ci teletrasporta Ragazzi Ragazzi Qua dobbiamo stare attenti Dove andiamo Nei trampolini Perché Cioè ragazzi Perché se tipo Noi andiamo Nella bassa Nemica Ci succedono sempre Fate attenzione Dove mettiamo Dove ci mettiamo In partita Sta cosa Confusionaria Ragazzi Guardate qua Nelle impostazioni Mapmaker Da questa schermata Che ci hanno messo Possiamo anche vedere Che lo sfondo Del gioco Dei menu Sarà viola Ragazzi Ho paura Di quello Che vedrò adesso Oddio Si possono creare Le mappe Ma io non Credo C'è una Tipo una cosa Per provare Mi sa Ragazzi Perché non è possibile Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrizione Campanella Bella Ragazzi Ragazzi Ragazzi